Ecco lì. Grazie, buonasera. 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 Tonella, ciao. Ciao, bellissima. Sei venuta finalmente. Eh vabbè, ho detto che prima o poi sei venuta a trovarti. Stasera ho trovato il tempo di venire al teatro. Lo spettacolo è bello, eh. Bello. Ho visto un sacco di gente fuori. Ieri, pienone. Sì. Ma manca a prenotarlo. Ma non ho mai che sono stasera allora. Senti, quanto costa il biglietto? Eh, come sembra, la poltrona 18 e la galleria 12. Sì. Che scegli? No, volevo dire, eh, siccome noi siamo amici e tu lavori qui a teatro, mi regali un paio di biglietti. Senti, siccome noi siamo amici e tu lavori in banca, mi regali un paio di assegni? Beh. Vabbè. Ciao da picchiè. Galeri. Quanto è? 12. Grazie a sé. Buonasera. 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 Volete due poltrone? Eh, no, ce le abbiamo già le poltrone a casa. Eh, eh, avete un di banoletto? Devo vedere il magazzino. Ma no. È arrivato il camion. Oh, l'hanno scaricato. Vado a vedere. Vado bene. Grazie. Di banoletto. Eh, le poltrone che c'hanno queste, non mi piacciono. Vado bene.